che bella giornata per imparare i nomi della frutta e della verdura vediamo cosa abbiamo qui frutta e verdura che buono sapete tutti i nomi pomodoro banana melanzana carota patata pesca broccoli lattuga mela e asparagi bene bene bambini sapete già come sono fatti un pomodoro una pesca o una banana ma sapete cosa sono frutta e verdura volete che vi spieghi la differenza ottimo pops mi aiuti tutte e due la frutta e la verdura provengono dalle piante a seconda della parte della pianta da cui provengono saranno frutta o verdura iniziamo con la frutta tutti i frutti prima sono stati dei bei fiori i fiori non solo hanno un buon profumo aiutano anche le piante a riprodursi per questo i frutti hanno i semi per questo i pomodori le banane le melanzane le pesche e le mele sono frutti prima sono stati dei fiori e le verdure sono qualsiasi altra parte commestibile della pianta semi tuberi radici e bulbi stanno sotto terra e poi steli foglie e fiori sotto terra ci sono verdure come le carote e le patate mangiamo anche steli come gli asparagi foglie come la lattuga e fiori come i broccoli ci metterete un po' a imparare a distinguerli anche gli adulti a volte sbagliano volete giocare con la lavagna digitale per esercitarvi? dovete mettere la frutta a sinistra e la verdura a destra pronti? oh no dov'è la bacchetta? non importa bambini groovy può aiutarci wow grazie groovy pomodoro frutta o verdura? ricordatevi che ha i semi esatto i pomodori sono frutti anche se non sono dolci banana? esatto le banane sono frutta e la melanzana? no bambini prima sono stati dei fiori giusto le melanzane sono frutti e la carota? sì le carote sono radici commestibili e cosa mi dite della patata? esatto le patate sono verdura sono tuberi e la pesca? facile no? giusto le pesche sono frutti con dei semi molto grandi e i broccoli? verdura giusto anche se è difficile da credere i broccoli sono fiori e la lattuga? anche questa è facile sono foglie perciò è verdura e la mela? frutta ovvio hanno dei semi abbastanza grandi e l'ultimo gli asparagi molto bene groovy è una verdura perché si tratta di steli siete stati bravissimi so che a volte può essere complicato ma che sia frutta o verdura ricordati di mangiarne tanta di entrambi che bella giornata per giocare nella sabbia ah ah groovy che carino quel granchio mmm cos'è questo profumino? è sicuramente qualcosa di buono attento groovy ai broccoli ecco cosa profumava così no groovy aspetta finché siamo tutti a tavola perché non vai a chiamare Phoebe? Phoebe è pronto sbrigati perché groovy ha molta fame groovy deve aiutare Phoebe a uscire da sotto la sabbia ah 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 e mi sa che non basta non so se queste trasformazioni sono utili un attimo questa sì una palla è proprio quello che ci serve guardate come corre groovy ha proprio fame cosa c'è Phoebe? non ti piacciono i broccoli? sono davvero buoni i broccoli vero groovy? groovy quei broccoli sono di Phoebe Phoebe i broccoli sono molto salutari non li vuoi provare ti piaceranno di certo pops mi aiuti a spiegarle perché è importante mangiare frutta e verdura? mangiare frutta e verdura come i broccoli è molto importante per la nostra salute la frutta e la verdura sono la nostra principale fonte nutritiva grazie a loro possiamo essere forti e crescere senza fermarci dobbiamo mangiare 5 porzioni di frutta o verdura al giorno groovy mangia più di 5 porzioni al giorno e voi bambini mangiate frutta e verdura tutti i giorni? Phoebe non vuoi provare neanche un pochino di questi broccoli così buoni? dai devi solo dargli una possibilità provali ti piaceranno di sicuro vero bambini? oh caspita Phoebe non riesce più a pedalare perché ha fame ovvio prima non ha mangiato la verdura e ora non ha abbastanza forza wow groovy quei broccoli ti hanno dato una super forza non preoccuparti Phoebe si può aggiustare però adesso come facciamo a tornare a casa? trovato! groovy può aiutarci groovy ci aiuti? in che cosa deve trasformarsi groovy per portare a casa Phoebe e il suo triciclo rotto? in un mazzo di fiori? in uno spazzolone? o in una gru? esatto groovy deve trasformarsi in una gru per tornare a casa molto bene bambini! wow con questa super gru arriveremo subito a casa groovy oggi è il tuo giorno fortunato anche a cena c'è la verdura mi spiace Phoebe dai provale sono sicuramente buonissime papà cucina molto bene vedi che avevo ragione le verdure sono buonissime non ci posso credere Phoebe sono piaciute così tanto a Phoebe che si è mangiata anche il piatto di groovy tranquillo groovy ce ne sono ancora potete mangiare tutte le verdure che volete che ottima cena che ottima cena con tutte queste verdure avete abbastanza energie per giocare senza fermarvi che bella giornata per giocare in spiaggia no groovy non si può lasciare la spazzatura in spiaggia anche se non è tua bisogna buttarla nel cestino che orrore la spiaggia è piena di spazzatura non è possibile bambini dobbiamo fare qualcosa vero Pops? il nostro pianeta è in pericolo perché i grandi non smettono di inquinarlo non si può gettare la spazzatura ovunque bisogna buttarla nel cestino e poi dobbiamo anche riciclare gettando ogni cosa al suo posto le bottiglie verdi nel cestino verde quelle blu nel cestino blu e quelle rosse nel rosso forza bambini ricicliamo tutti insieme in quale cestino vanno queste bottiglie? molto bene Phoebe così si fa la bottiglia blu nel cestino blu no groovy la bottiglia rossa non va nel cestino blu in quale bisogna metterla bambini? sì nel cestino rosso ho un'idea per pulire la spiaggia perché non facciamo una gara? vediamo chi dei due Phoebe o Groovy raccoglie prima le bottiglie accettate la sfida? il gioco è molto semplice ci sono cinque bottiglie in ogni campo Phoebe e Groovy devono raccoglierle e riciclarle correttamente capito? pronti? partenza? via! i due giocatori prendono la bottiglia Phoebe getta la sua correttamente ma Groovy cade oh no! bisogna prenderla di nuovo Phoebe gioca ad anticipo e supera Groovy che adesso sì ha gettato correttamente la sua bottiglia Phoebe è alla terza bottiglia mentre Groovy è alla seconda sembra che il risultato sia ormai deciso Phoebe vincerà a meno che Groovy non faccia qualcosa una cosa mai vista Groovy si trasforma in polpo e guadagna posizioni la partita non è ancora decisa la gara è accanita entrambi i giocatori stanno per gettare l'ultima bottiglia e il risultato è parità! e tutti abbiamo vinto perché ora la spiaggia è pulita grazie bambini un'onda ma cosa succede? l'onda ha riempito di nuovo la spiaggia di bottiglie bambini abbiamo un problema è di quelli grandi anche il mare è pieno di bottiglie cosa possiamo fare per raccoglierle? ti viene in mente qualcosa? trovato! Groovy ci può aiutare bambini in cosa potrebbe trasformarsi Groovy per pulire il mare? in una matita in una barca o in una palla? esatto! Groovy deve trasformarsi in una barca da pesca per pulire il mare forza bambini andiamo a pescare bottiglie wow! la spiaggia è bellissima ora che è pulita possiamo continuare a goderci questa giornata meravigliosa che bella idea festeggiare con un bel succo fresco però bambini cosa bisogna fare con il contenitore vuoto? esatto! riciclarlo! molto bene! avete imparato la lezione la spazzatura va sempre nel suo cestino che bella giornata per giocare sull'altalena wow! Phoebe sa andarci da sola Groovy perché non provi anche tu? sembra divertente dai! molto bene aspetta cos'è? una talpa? dove sta andando? a casa sua? impariamo quali sono le case degli animali le talpe vivono nei cespugli? ah 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 no era solo una lumaca le lumache vivono nel loro guscio si portano dietro la casa guardate lì un ragno i ragni costruiscono le ragnetele per vivere e intrappolare le prede continuiamo a cercare la casa della talpa guardate bambini una rana le rane vivono negli stagni che divertente bambini guardate guardate il sentiero finisce in quel buco deve essere la casa della talpa Groovy cosa fai? ah ah vuoi vedere com'è dentro? le talpe scavano delle tane che sono collegate da tunnel perciò compaiono dappertutto in giardino wow è enorme eh ops dove vai? guardate cosa ha trovato sta nascondendo un uccellino oh no sto per cadere grazie al cielo l'hai preso come sta? ciao uccellino oh non sa ancora volare è piccolo dobbiamo aiutarlo a tornare a casa sapete dove vivono? gli uccelli vivono nei nidi che costruiscono sugli alberi ma il suo nido è troppo alto come facciamo ad arrivarci? in cosa può trasformarsi Groovy per aiutare l'uccellino? un ulo a hop? una macchina fotografica? o un camion dei pompieri? esatto bambini Groovy deve trasformarsi in un camion dei pompieri molto bene Groovy ci sei quasi benvenuto a casa uccellino bambini bambini volete fare un gioco? dove vivono questi animali? guardate questi sono gli animali che abbiamo incontrato una talpa una lumaca un ragno una rana e un uccello sapete dove vivono? vediamo dove vive la talpa? in una tana un guscio una ragnatela uno stagno o un nido? esatto esatto le talpe vivono nelle tana e dove vive l'uccello? in un guscio? una ragnatela? uno stagno? o un nido? esatto gli uccelli vivono nei nidi sugli alberi e le lumache? dove vivono? in un guscio? una ragnatela? o uno stagno? giusto le lumache vivono nei loro gusci e le rane allora? in una ragnatela? o uno stagno? sì le rane vivono negli stagni resta solo un animale il ragno e sì i ragni vivono sulle ragnatele ripassiamo tutto un'altra volta le talpe vivono nelle tane gli uccelli vivono nei nidi sugli alberi le lumache vivono nei loro gusci le rane vivono negli stagni e i ragni vivono sulle ragnatele molto bene che bella giornata per giocare a calcio in giardino groovy prova a fare gol devi prendere meglio la mira cosa succede bambini? la palla è dall'altra parte della strada no bambini non potete correre così vicino alla strada è molto pericoloso lo so Phoebe dobbiamo prendere la palla ma bisogna seguire alcune regole di sicurezza stradale per attraversare la strada Pops mi aiuti a spiegarle? prima dobbiamo cercare un attraversamento pedonale sono delle strisce dipinte per terra che segnano il percorso verso l'altro lato della strada si chiamano anche zebre perché sono bianche e nere secondo aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni il semaforo è un segnale luminoso che indica chi deve passare per primo ce n'è uno per le auto e uno per i pedoni voi dovete guardare quello con i pupazzetti con il rosso bisogna fermarsi con il verde si può passare perciò quando è verde possiamo attraversare terzo guardare da entrambi i lati per vedere che non ci siano auto e quarto aspettare che le auto si fermino del tutto esatto pronti per attraversare e recuperare la palla? seguiamo le regole di sicurezza stradale primo cercare un attraversamento pedonale giusto aspetta Groovy non ancora secondo dobbiamo aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni la luce è diventata verde terzo passaggio guardare da entrambi i lati che non arrivino auto e come ultima cosa aspettare che le auto si fermino del tutto ora possiamo attraversare prendiamo la palla missione compiuta abbiamo recuperato la palla torniamo a casa e continuiamo la partita dobbiamo attraversare di nuovo ricordatevi quello che abbiamo imparato cosa? il semaforo si è rotto così non possiamo attraversare le auto si devono fermare cosa possiamo fare bambini? Groovy ci aiuti? in cosa può trasformarsi Groovy per fermare le auto così che possiamo attraversare? in un biberon? un cartello rosso di stop? o in un ragno? giusto! Groovy deve trasformarsi nel cartello rosso di stop ricordate rosso vuol dire fermarsi se vedono il cartello rosso di stop le auto saranno obbligate a fermarsi ma bisogna sempre guardare prima da entrambi i lati e non attraversare mai se arrivano delle auto molto bene continuiamo a giocare bambini cosa dice Pops? oh è vero hanno lasciato la porta aperta molto bene Groovy evitare situazioni pericolose è il consiglio migliore per la sicurezza stradale perfetto che bella giornata per giocare in giardino cos'è Fibi? una palla? bambini perché non contiamo quante volte riusciamo a colpirla senza che cada? così ripassiamo i numeri pronti? Groovy devi colpire la palla proviamo di nuovo mettetevi in cerchio Pops anche tu uno Groovy la palla deve arrivare fino a Fibi colpiscila più forte uno due l'hai lanciata molto in alto possiamo migliorare bambini uno due tre quattro cinque sei sette otto Fibi devi passare la palla ai tuoi amici bisogna condividere così è più divertente molto bene dai Groovy prova ancora ops non così forte la palla la palla si è incastrata sul camino non importa bambini Pops può prenderla senza problemi ops che succede? è così incastrata? Pops Pops si è dimenticato della missione recuperare la palla cosa possiamo fare per prenderla? una scala no Fibi i bambini non devono salire sul tetto è molto pericoloso trovato perché non ci facciamo aiutare da Groovy? in quale giocattolo può trasformarsi Groovy per recuperare la palla? in un elicottero? un'auto? o in una nave? esatto bambini un elicottero può volare sul tetto alla riscossa molto bene molto bene Groovy guarda Fibi la palla grazie Groovy sei il migliore giochiamo ancora in squadra mentre Fibi colpisce la palla Groovy ci aiuterà a contare fino a dieci pronti? uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci perfetto cosa are you doing? are you trying to say something? oh yes subscribe kids Groovy the Martian official channel